E torniamo in diretta, andiamo sul nostro touch screen andando a vedere appunto la domenica ecologica, la prima uscita degli angeli. Che cosa sono questi angeli? Sono gli angeli di Civitavecchia, quello qui l'articolo che riporta appunto questo gruppo di civitavecchiesi, di volontari che si fanno chiamare angeli di Civitavecchia che appunto nel non vedere bella la loro città hanno iniziato a fare questa azione di volontariato e dopo il passaparola su Facebook alcuni civitavecchiesi sono ritrovati una domenica di fine luglio a pulire gli scogli del Pirgo Tutte le domeniche fino a ottobre sono passati a diversi punti della città, sono riconoscibili da una felpa appunto con gli angeli, questa è la foto. E sentiamo parlare Alessandra Lecci e poi anche Donatella Cesarini che tra l'altro abbiamo nostri ospiti, ben trovate amicinatevo. Ben trovate? Allora, parliamo un attimo con voi questo, intanto volevo chiedere come è nata Alessandra, come è nata questa, abbiamo letto ecco dall'articolo che così vi siete trovati una domenica di luglio, ma questo spirito è nato, questa azione di volontariato è nata oppure una decisione proprio di pulire la propria città dovuta magari all'imperizia? No, più che altro è nato proprio per un senso civico profondo che ci contraddistingue, perché comunque noi come spesso ripetiamo abbiamo bisogno di gesti concreti, di amare la nostra città proprio attivamente. Quindi appunto questo desiderio di vedere a rifiorire la nostra città, che sicuramente sì, è stato un po' trascurata, però questo dovuto anche non solo a un'imperizia, ma anche dovuto a poco, forse anche poco senso civico e poco amore per la nostra città. Quindi noi proprio attraverso questi gesti eclatanti vorremmo che la nostra città ritorni a rifiorire e a ritornare per poter vivere in maniera adeguata e in una città anche pulita, perché credo che faccia piacere a tutti passeggiare per la città e che sia insomma curata. Allora, Donatella Cesarini invece, proprio il momento in cui vi siete ritrovati, probabilmente molti di voi neanche si conoscevano, tutti spinti dalla stessa volontà di ripulire la propria città oppure di mandare anche un messaggio magari ai cittadini? Sì, diciamo che ci siamo trovati un po' anche per caso, nel senso che alcuni avevano un gruppo Facebook, alcuni avevano un altro gruppo Facebook e alla fine queste persone si sono trovate proprio su Facebook a parlare di questo problema della nostra città. E' nata così l'idea di cominciare a pulirla, a dare noi un segno e andare sul giornale e farlo sapere, molti ci accusano di farci pubblicità, ma in realtà a noi serve di far sapere quello che facciamo perché vogliamo un po' essere un esempio, non perché siamo bravi, ma perché siamo cittadini e vogliamo coinvolgere le persone, soprattutto i bambini. Infatti domenica, quando faremo questa attività, sarebbe bello portare tanti bambini a vedere come si può mettere a posto un'aiola che è della nostra città e farli assaporare proprio il gusto di vivere in un ambiente più bello. Ecco, ma per quanto riguarda l'introdotto discorso di domenica, che cosa ci sarà domani mattina, domani durante tutto il giorno? Allora, dalle 10 alle 13 è prevista un'opera di piantumazione tra Piazza Calamatta e Piazza Fratti, mentre nel pomeriggio dalle 3 una visita guidata organizzata da Roberta Galletta alla scoperta sia di tutti gli interventi che abbiamo fatto, ma anche alla scoperta dei monumenti e dei luoghi storici della nostra città. Inoltre sarà anche possibile, tramite l'utilizzo di auto elettriche offerte da Giacomo Tabelli, di fare una passeggiata con queste auto e queste sono le nostre attività previste per domani, che sperano si protagongano anche per altre domeniche. Allora, vediamo delle immagini di Civitavecchia sul nostro touchscreen. Quali sono le zone che fino ad adesso avete bonificato? Allora, abbiamo bonificato tantissimo Campo dell'Oro, abbiamo pulito tanto, circa un mese in quella zona, poi abbiamo bonificato il centro, abbiamo bonificato in particolare del centro le scuole, quindi tutto quello che aveva a che fare proprio con i bambini. Davanti alle scuole principali di Civitavecchia abbiamo pulito tutta la zona intorno alle scuole. Poi stiamo pulendo la piazzetta che si trova vicino ai portici, perché comunque è il luogo di passaggio dei bambini, ma anche dei turisti che comunque hanno un'immagine di Civitavecchia è una città bella, degna, decorosa, perché ci teniamo comunque che si parli di una città pulita. Certo, una città pulita. Le critiche che sono arrivate, prima abbiamo sentito il discorso della pubblicità, però appunto Donatella ci ha spiegato perché loro cercano pubblicità e perché. Alcuni cittadini dicono noi paghiamo le tasse e quindi pagando le tasse sono degli operatori che devono lavorare al posto nostro e quindi criticano da una parte la vostra azione. Come rispondete a queste critiche? Allora, io rispondo portando sempre un esempio. Tanti anni fa ho avuto un incidente, è venuta l'ambulanza, dentro l'ambulanza fortunatamente c'erano dei volontari e quindi i volontari bisogna dire grazie. Noi non è che vogliamo costringere nessuno a criticare gli altri, noi diciamo solo, noi lo facciamo perché abbiamo piacere di farlo. Voi mantenete pulito, non è che dovete scendere tutti in piazza a farlo, chi ha voglia si unisce, però mantenete pulito. La critica è inutile, è una cosa bella comunque che stiamo facendo nella nostra città. Alessandra, come la vedi? Io non posso che concordare con Donatella perché, ripeto, lei fa l'esempio dell'ambulanza, io faccio l'esempio delle scuole perché io sono un'insegnante e quindi a volte mi trovo costretta a chiedere aiuto ai miei genitori, quindi che ne so, magari manca la carta igienica, loro portano la carta igienica oppure all'interno di tanti edifici cittadini è prevista la collaborazione attiva dei genitori, quindi dove i genitori possono entrare all'interno della scuola e operare proprio a piccoli lavori di manutenzione di cui la scuola necessita. Quindi anche quello è volontariato, quindi non si critica il lavoro dei volontari, dei genitori perché è una cosa bellissima. Perché criticare il lavoro nostro come volontari che vogliamo vedere la nostra città? Bella, vogliamo vivere in una città pulita. Io voglio che i miei figli abbiano la possibilità un domani di dire finalmente Civitavecchia è la città in cui voglio vivere e non come sento magari tanti giovani, tanti adolescenti che dicono non vedono l'ora di lasciare abbandonare questa città non solo perché non offre varie cose, ma anche perché non è bella né da vedere né da vivere. E vogliamo ritornare a riappropriarci della nostra città. Donatella, hai mai pensato che in una società perfetta in cui le persone non sporcano, i servizi funzionano probabilmente la vostra funzione non esisterebbe? Eh ma quel giorno io sarò ben felice di mettermi nel mio ruolo di vicepresidente e di tornare a casa a fare le cose che ho da fare di casa, nel mio lavoro. Saremmo contentissimi noi di non dover mai mettere mano. Se ognuno di noi fa la sua piccola parte non servono i volontari Civitavecchia. Gli angeli Civitavecchia possono volare e non servono più. Ecco, quindi diciamo questo è il messaggio che mandate. Alessandra, dopo la bonifica che voi fate, la pulizia, vedete un miglioramento da parte della situazione? Mi spiego meglio. Una volta che pulite una zona, poi magari i cittadini vedono proprio dei cittadini come loro, dei volontari che puliscono quella zona e magari viene sporcata meno. Un po' come succede nei bagni pubblici, no? Che quelli maggiormente puliti vengono lasciati puliti a differenza di quelli sporchi. Dipende dalle zone in cui viene espletata la pulizia. Perché noi abbiamo notato che le zone che sono più visibili, ecco come Piazza Calamatta, Piazza Fratti, rimangono più pulite. Mentre le zone quelle più periferiche, dove comunque il passaggio è più frequente e anche meno controllato, si tende a sporcare di nuovo. Ecco, noi per esempio abbiamo notato che a Campo dell'Oro, pur avendo trascorso un mese a pulire, a bonificare, e comunque ci siamo ritrovati la domenica successiva a ridover passare dove già eravamo passati la domenica precedente. Quindi dipende dalle zone, ecco, anche per questo noi continuiamo in questa opera, perché vogliamo veramente che, come diceva Donatella, non dovete, non solo, cioè non dovete venire a pulire con noi, se non volete e non vi va, però almeno cercate di mantenere pulito quello che trovate pulito, come dicevamo, dei bagni. I bagni sono puliti, non li sporchiamo, fate la stessa cosa per la vostra città, insomma che credo amiate come l'amiamo noi. Donatella, se un nostro telespettatore è stato conquistato così dalla vostra azione o comunque vuole darvi una mano, dove può rintracciarvi? Allora, sulla pagina Facebook Gli Angeli di Civitavecchia, nella nostra associazione, vi potete inserire, dare il vostro mi piace e quindi seguire tutte le nostre iniziative. Poi, se vuole partecipare alle nostre iniziative, domenica questa, proprio alle 10, ci troviamo tutti quanti in Piazza Fratti, in Piazza Calamatta, in Piazza Calamatta. Poi ci sposteremo a Piazza Fratti. Sì, alle 10 in Piazza Calamatta. Quindi prima a Piazza Calamatta e poi al ghetto, appunto, a Piazza Fratti. Allora, io ringrazio Alessandra Lecis e Donatella Cesarini di essere state con noi questa mattina e aver presentato la loro associazione che tra l'altro ne ho nata, giusto? Sì, è la nostra prima uscita pubblica, ufficiale da associazione questa. Perfetto, allora speriamo di portare bene come Mecena TV. In bocca al lupo per la vostra associazione e per quello che fate. Grazie a tutti.